eccoci qua buonasera di nuovo buonasera contadini come state tutto a posto vediamo un po che si colleghi qualcuno e poi cominciamo tema di oggi l'orto in cassetta l'orto in cassetta anche perché abbiamo visto un po di cose sull'orto fatto fuori abbiamo visto il semenzaio abbiamo visto un po di cose vi ho promesso già diverse volte che avrei pensato anche a chi è in casa e ha solo il balcone in questo momento e allora oggi facciamo una cassettina prepariamo in una cassetta in un contenitore un po di orto vediamo se si collega qualcuno altrimenti noi si parte lo stesso è così mi confermate se mi sentite ecco la prima persona vediamo un po se si vedrà chi è che si presenta in diretta la barbara ciao barbara quanto tempo grande bello 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 che ti colleghi oggi si fa l'orto in cassetta è barbara tutti i giorni stiamo facendo un pezzettino di orto piano piano arriveremo fra qualche settimana ad avere a mangiare verdurine anche vediamo chi altro sta arrivando siamo già in due tra poco si parte siamo in tre ora il tempo che tu che un po di gente riceva la notifica gianni grande gianni ragazzi fantastico oggi abbiamo un ospite importantissimo che onore gianni si fa un orto in cassetta oggi è tutti i giorni sto facendo un pezzettino d'orto e oggi pensiamo a chi ha il balcone quindi mi sono preparato tutto quanto e fra qualche secondo si parte vi state fiondando siamo già in 6 7 e siamo quasi pronti è dai io direi di cominciare allora vi faccio vedere un po il set che ho preparato per voi oggi guardate un po preparato un tavolino con la cassetta con il terriccio con la terra e tutto quanto grazie gianni ma detto bravissimo detto da te gianni io prendo e porta a casa è fantastico allora guardate qua seguitemi perché questa è proprio pensata per chi è al balcone in questo momento magari un po di terriccio in casa oppure andando a fare la spesa può capitare che può trovare magari il supermercato del terriccio tanti negozi sono chiusi per cui facciamo con quello che abbiamo e partiamo subito il concetto come sapete sempre quello dell'orticoltura ecologica in questo caso andiamo ad imitare quello che succede nel terreno pertanto andiamo a utilizzare una vecchia cassettina della frutta eccola qua come vedete piuttosto bassa quindi a questo giro pianteremo qualcosa che non richieda grandi altezze di terra grandi profondità quindi andiamo a mettere uno strato di io ho il tessuto non tessuto qui in realtà si può usare un vecchio straccio un asciugamano un lenzuolo tagliato quello che volete l'importante che contenga la terra e che lasci poi passare l'acqua passare l'acqua scorrerla via perché se lo tenete sul balcone giustamente come dico sempre ai bambini quando lo facciamo la mamma se no poi vi sgrida perché se va tutta la terra nel balcone è un disastro dico bene intanto ciao claudine dal burundi anche oggi fantastico alessandra ciao ragazzi per gente da tutto il mondo barbara forse in irlanda ancora per cui abbiamo gente già da due tre nazioni oggi per cui come vedete abbiamo creato un filtrino diciamo è si dice per drenare quindi l'acqua se ne andrà via ma la terra rimarrà qui quindi andiamo avanti e mettiamo ora ancora un po di drenaggio in genere ad averlo in casa si può utilizzare l'argilla espansa che è praticamente una una argilla appunto fatta cuocere e soffiata con l'aria quindi è molto leggera e fa un po la funzione di quello che fanno i sassi per terra ora io non ce l'avevo in casa per fortuna perché così posso farvi vedere qualche altra soluzione in questo caso mettiamo un po di foglie secche vedete sono andato prima qua vicino nel bosco mettiamo un po di foglie secche e mettiamo un po di sassolini che ho preso questa cosa ci serve a due cose la prima è per completare il drenaggio ovvero per fare in modo che se ne vada via l'acqua e non la terra la seconda è per ricreare in qualche modo per le radici un buon supporto per aggrapparsi anche se siamo in una cassettina d'accordo benissimo ciao riccardo grande anche riccardo si è collegato fantastico ragazzi oggi c'è dei personaggi fantastico veramente collegati imprenditori gente fa comunicazione una meraviglia quindi ora vi faccio vedere questo passaggio quindi vedete abbiamo creato quello che succede un po sottoterra c'è un po di sostanza organica con le foglie c'è un po di scheletro con i sassi e ci siamo adesso andiamo a mettere la terra una delle cose che tanti fanno quando fanno l'orto in cassetta è di mettere solo il terriccio ora il problema qual è che se il terriccio è buono ci siamo funziona fantastico questo fra l'altro è del terriccio molto buono ma se è terriccio solo di torba quindi che è piuttosto povero diciamo in minerali quantomeno quindi è solo sono sostanze legnose così spesso e volentieri le piantine non si trovano poco benissimo quindi una buona prassi è mescolare la terra con il terriccio adesso vi faccio vedere si vede bene vero si voilà andiamo a mettere un po di terriccio come vedete questo è molto buono bello scuro eccolo qua e poi andiamo a prendere un po di terra che ho portato via dall'orto del mio babbo li ho portavo via due zolle ecco riccardo però in ritardo voglio il tutorial intero oltre che il bosco vicino casa grande riccardo il bosco vicino casa tocca tocca diciamo impegnarsi un po di più il tutorial intero guarda trovi le dirette tutti i giorni dalla alla z sull'orto ho cominciato 5 6 giorni fa e andiamo avanti sicuramente finché siamo chiusi in casa diciamo allora adesso vedete qua ho un bel coltellino o la zolla vado a frantumarla un po l'ho lasciata intera apposta perché volevo proprio farlo con voi il lavoro è dire andiamo un po a spaccare ora a me ogni tanto piace lavorare senza guanti in realtà mettete di guanti è anzi magari da domani li metto anch'io perché altrimenti dal cattivo esempio e questo non è bello allora in realtà di zolla ce ne basterà una mi piace stare senza guanti perché mi piace toccare la terra che è veramente bello e leonora ciao teresa ciao maria gabriella andrea fantastico siamo tanti 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 sempre di più allora come vedete va un po frantumata perché altrimenti sono pezzi troppo grossi e poi la piantina fa meccanicamente fatica ad aggrapparsi alla terra quindi la spezzettiamo per bene come si deve poi la mescoleremo al terriccio tra l'altro c'è anche un altro aspetto in questo modo diamo anche un po di carica microbica naturale ai terricci che spesso arrivano magari sterilizzati eccetera quindi alle piante male non gli fa avere un po di terra soprattutto per l'orto noi siamo a fa l'orto anche se in cassetta poi ragazzi la roba ci viene siamo a mangiare ciao paola ciao leonora ciao lorenzo intanto vi vedo via via fantastici siete allora come sapete questa serie di dirette la facciamo proprio in emergenza per questi giorni come tanti hanno aperto i loro ci siamo mi vedete c'era stato un attimo uno stacco ciao massimo eccoci arrivati allora molto bene io direi che basta così adesso è anche l'occasione per spiegarvi un po mettiamo ancora un po di terriccio le consociazioni le consociazioni qualcuno ieri mi chiedeva dietro domani ci parli delle consociazioni io ho voluto fare prima l'orto in cassetta in questo modo in modo da da supportare velocemente anche chi è proprio in appartamento e non ha possibilità di avere l'orto fuori però è l'occasione comunque di parlarvi delle consociazioni perché anche in una cassettina piccola così possiamo anzi dobbiamo rialzo un po il telefono così vi faccio due chiacchiere possiamo anzi dobbiamo con sociale cosa vuol dire con sociale vuol dire prendere più tipi di piante diverse e metterle vicine perché dovete sapere che ci sono alcune piante che con altre si danno una mano ovvero come succede questa roba qua diciamo vi do due dei vari motivi che ci sono vi do i due più importanti succede a causa delle caratteristiche della pianta stessa quindi per esempio degli oli essenziali che emettono il rosmarino per esempio è molto profumato a noi piace quel profumo a tanti insetti no e quindi stanno lontano quando c'è il rosmarino alcuni fiori idem oggi vedremo in questa cassettina metteremo anche dei fiori che sono un po i fiori tipici che si mettono nei bordi degli orti sinergici per tenere fuori gli insetti quindi il sopra diciamo la parte aerea della pianta che ha questi profumi sgraditi dagli insetti oppure la parte sotto della pianta quindi la parte radicale dovete sapere che anche le radici non sono inermi le radici crescono le radici scambiano con con l'esterno e questo è tutto un tema meraviglioso che vedremo nei prossimi giorni è quello che quanto la pianta comunica e quanto la pianta è capace di sentire ma non voglio anteciparvi niente oggi diciamo solo che le radici sotto emettono gli essudati radicali sapete che sono sono delle delle sostanze che le radici emettono anche la parola lo dice essudati e che sono più o meno compatibili con le altre piante ci sono addirittura piante che vicino per esempio i finocchi vicino ai fagioli si danno noia per dirne una l'insalata vicino alla cipolla funziona ok per cui ci sono trovate un sacco di tabelle un sacco di articoli su su internet ora l'idea oggi non è quella di andare nel dettaglio proprio di quali consociazioni vanno bene qua ne vedrete una che faccio io nella cassetta poi andatevi a cercare sta veramente alla fantasia sta alla creatività vostra di cercare cosa c'è di buono molto bene quindi abbiamo visto abbiamo creato la cassettina quindi è pronta per essere trapiantata adesso lo faremo abbiamo detto che metteremo vari tipi di piantine e perché ok cioè facciamo una consociazione come vi ho detto prima anche perché è arrivato ora ciao quan ciao chiara roberta ciao cecilia ciao roberta ecco la grande perfetto stavo parlando delle consociazioni roberta eri te ieri che mi chiedevi vero ecco qua e per cui adesso andiamo a piantare guardiamo un attimo l'ora se abbiamo ancora i nostri 5 5 10 minuti andiamo a mettere giù qualcosa intanto siamo in 16 ragazzi grande che per i numeri con cui avevamo cominciato è piano piano allora rimetto la fotocamera sul banchettino dal lavoro e vi faccio vedere cosa mi sono portato allora vi ricordate ieri abbiamo fatto il semenzaio e vi avevo detto che avevo fatto le talee di rosmarino e le abbiamo fatte ieri anche allora ho tirato fuori la piantina che avevo messo in autunno per farvi vedere quante radici ha fatto ciao lucia intanto ciao lucia la mia sorellina lucia e vi faccio vedere la piantina pensate che era un rametto di rosmarino questo era un rametto di rosmarino guardate mettendolo sottoterra addirittura non l'avevo neanche messo a bagno e non ho messo l'ormone radicante ci sono degli ormoni delle piante che si possono dare per facilitare quello che è successo qui ok guardate qualche meraviglia ha fatto tutte le sue radici è pronto per essere trapiantato si vede anche dove è stato tagliato guardate eccolo qua quindi adesso noi che faremo lo metteremo nella nostra cassettina era in un vasetto piccolo cominciava essere troppo stretto quindi diamo un po più di spazio poi ancora tra un po lo trapianteremo a terra magari nell'orto quindi con la sua terra la prendiamo facciamo una buchina con le mani e non mettiamo l'ho messo in un angolo si vede vero si l'ho messo in un angolo ciao samuele intanto che piacere come stai grande l'ho messo in un angolo vedete in modo che poi cresca abbia spazio e da poter togliere bene la terra quando lo trapianterò poi cosa andiamo a mettere ora andiamo a mettere solo semi allora la prima cosa astro prima piuma di struzzo eccolo qua e se non erro anche detto un asturzio questo è uno dei fiori che si mettono nel anzi mettiamo l'elicriso qua eccolo qua mettiamo l'elicriso vedete sono i due fiori che si mettono spesso ai bordi degli orti per tenere lontano gli insetti come vedete erano sacchetti che avevo già in casa ce lo riapriamo tutto bene dice samuele grande anch'io bene dai sono giorni un po particolari e samuele ci siamo messi a fare dirette sugli orti perché sennò qui non se ne cava le gambe almeno abbiamo qualcosa da fare chi ha già le attrezzature a casa si può organizzare a fare qualcosa allora vi faccio vedere i semini di questo fiore che sono veramente non lo so se si riuscirà con la fotocamera un piccini 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 piccio guardate qua allora noi adesso qua facciamo una filettina nella cassetta da questa anzi la facciamo sì da una parte la facciamo da questa parte facciamo come ieri no come l'altro ieri vi ricordate quando ero nell'orto vi faccio vedere il movimento della mano per fare le semine che è questo si tengono i semi dentro la mano in questo modo e poi con la mano si scorre si vede e si fanno cadere in modo che io riesco a seguire la fila in maniera un po ordinata quindi ora li sto mettendo qui poi dopo questi sono sembrano pochi ma sono già tanti perché da ognuno di questi nascerà una piantina vi faccio vedere nascerà una piantina aspettate giriamo la fotocamera ecco qua eccoli qua vedete quindi nella filettina allora mi scrivono siamo le tre figlie di massimo quelli che stanno facendo l'orto grande dovete sapere che l'idea di queste dirette è venuta insieme a massimo che è un mio amico di un posto un po speciale perché il posto dove sono nato io e con i suoi bimbi sta facendo l'orto quindi via via noi facciamo le dirette loro vanno avanti e si organizzano o bustine dice roberta o bustine miste vecchie di 12 anni scadono bustine di fiore qualche ortaggio mai piantate se sono chiuse roberta secondo me puoi andare tranquilla al limite germineranno un pochino meno al limite germinano meno nel senso che c'è un indice di germinabilità si chiama e più passa il tempo più il seme diciamo tende a non a non essere più vivo diciamo ma i semi devi sapere che sono potenti potenti in che senso nel senso che loro seccano e possono durare anni per cui io ti direi prova io ti direi prova specialmente se sono quelle che hai in casa e non hai possibilità di comprarne altri in questo momento comunque come ho detto i giorni scorsi se andate a fare la spesa anche se gli altri negozi garden sono chiusi guardate perché spesso volentieri la coop o altri supermercati li hanno i semi si sono chiuse mi dice allora prova io proverei tranquilla mi risaluto nei ragazzi di massimo ciao ragazzi siete meravigliosi mi ha mandato le foto massimo ha un orgoglio di quelli spettacolari veramente un po' felice questa cosa bene bando alle ciance andiamo avanti passiamo a ciò che si mangia perché noi si è messo il rosmarino si è messo il fiore si è messo le ricriso e mo che si mangia è tutto buono ma qui ora allora si mangia la lattughina va bene si mangia l'insalata allora stessa tecnica di come ho fatto prima ora io rigiro la fotocamera in giù la fotocamera e poi il telefono in giù in questo modo andiamo a rivedere la tavolino dove sto lavorando e vi faccio vedere anche i semini dell'insalata sono belli da vedere i semi ragazzi guarda come sono piccini stessa tecnica la faccio rivedere perché si è collegato ora intanto siamo i 20 record ragazzi fantastico la tecnica è questa vedete col pollice si tiene insieme in mano e si gira il pollice ve l'ho fatta rivedere così per farli cadere ecco qua adesso io rifaccio altre due filettine qui e semino l'insalata l'insalata è da taglio per cui in una cassettina così bassa va bene perché io via via che cresce poi la taglierò senza farla senza fargli necessariamente fare il cuore farla diventare grande la posso tagliare anche quando è giovane giovane e fresca quindi in una cassettina così vi assicuro che non è solo per bellezza non è solo per bellezza ci si può ricavare qualcosina a mangiare quindi anche in un in un balcone tanto ciao Elena in un balcone paula che piacere dal cile ragazzi abbiamo i burundi il cile l'irlanda ieri la norvegia io io guardo uno spettacolo veramente queste dirette siamo in pochi ma da tutti i continenti vi dicevo se voi di queste cassettine sul balcone ne fate 5 6 ok o magari ne fate anche 10 avete insalata da mangiare se poi piantate l'insalata in maniera scalare ovvero oggi ne piantate una cassettina domani ne piantate un'altra dopodomani un'altra ancora avrete l'insalata pronta via via cara al diarmi dice dalle filippine ragazzi cioè che spettacolo veramente un grande orgoglio siamo da tutto il mondo da tutto il mondo e niente ecco un pochettino questo quindi la cassettina l'avete vista è pronta manca di metterci l'acqua ora io quando chiudo ci metterò anche l'acqua perché i semi per svegliarsi per partire hanno bisogno di un pochino d'acqua e magari visto che le piantine cresceranno piano piano adesso e potrebbero esserci dei ritorni di freddo invece di lasciarla fuori la piazza in semenzaio la piazziamo nel semenzaio in modo che sia anche protetta mi dice poi la monica dalla svizzera da zurigo cioè io veramente non ho parole ragazzi meravigliosi meravigliosi bene io direi ci possiamo fermare qui anche perché al balcone abbiamo dato un po' di istruzioni per divertirsi in questi giorni vi mando un abbraccio non mancate alle 4 e mezza perché oggi c'è una favola nuova nuova scritta stamattina di pacca perché ieri ho lanciato l'iniziativa con i bambini a cui leggo una favola alle 4 e mezza gli faccio conoscere una pianta gli ho lanciato l'idea di darmi un argomento un personaggio e io avrei provato perché non si sa è l'ispirazione vola dove vuole lei e ogni tanto uno la chiappa e stamattina mi è venuta l'idea su come scrivere questa favola sarà una sorpresa perché un bambino mi ha detto ieri a me mi piace le lucertole però ho detto le lucertole perché i dinosauri non ci sono più e allora ho scritto una storia con dinosauri e le lucertole tutte e due vediamo un po' se gli piace eh va bene anche in veranda dice Teresa certo anche in veranda va benissimo va benissimo la cassettina bene ragazzacci ciao ci si vede dopo oppure domani un abbraccio